un benvenuto a tutti in questo simpatico mondo chiamato air pentolone e come si può dire oggi iniziamo da qui perché ho fatto una tra virgolette cazzatina che video mi sono uscito dal mondo in tempo prima che finisse in modo da farvela vedere adesso aspettiamo un attimo il caricamento che si metterà tipo due anni e mezzo attendiamo con ansia il loading board building no non devi costruire il terreno l'hai già costruito schermata iniziale e poi forse iniziamo sempre con molta calma e mi raccomando minecraft non ti sforzare rumore sottofondo e ce l'abbiamo fatta ecco quello che sta finendo sta finendo ecco ho impostato i sto svuotando i cosi ecco questi vedete ce l'ho fatta praticamente questi fluid tank della ceppa di minchia li ho messi assieme sopra un steel tank di sta ceppa e hanno tirato fuori questa bellissima cosa ecco solo questo devo far vedere solo che non pensavo funzionassero subito appena collegati al al coso al tank e sono uscito il volo da minecraft per farvelo vedere nel frattempo adesso li togliamo e ripiazziamo qua sopra il nostro xp drain no così che dovrebbe funzionare adesso non ho esperienza però troverò il modo di farla allora dunque che novità ci sono dunque le novità cosa ho fatto dunque aspettate un attimo di qui la farm si sapeva già come funzionava nell'inventario che cazzo niente roba un arco non so bene per quale motivo la nostra farm l'abbiamo spostate se poi ve la farò vedere meglio e ci produce un bel po di roba mi sembra molto buona sta cosa tra cui molte ender pearl che ci serviranno e insieme a tutta questa bella roba adesso ho dei cosi qua perché ho i buttati tipo qua due steel tank do un wall un marmo perché gli avevo buttati qua fuori mi sorge un dubbio atroce forse per cavolo inventario pieno meno male che sono uscito guardate meno male che sono uscito dal che sono uscito dal gioco per farvi vedere quella quel piccolo quella piccola cosa che ho fatto con i tank e company perché non non ci avrei non avrei mai detto che di aver perso da roba fuori si dice che avevo fatto qualche puttanata con l'inventario comunque dicevamo qui invece abbiamo sempre un altro steel tank della ceppa con il nostro grinder collegato per il momento funziona tutto anzi qui mancherebbe forse un cubettino di dirt grazie e abbiamo l'abbiamo trasportato di qua abbiamo anche per la cronaca leggermente ingrandito niente di più niente di tanto ho fatto due o tre pezzettini in più di quei cosi e fine poi un'altra cosa un'altra cosa un'altra cosa un'altra cosa un'altra cosa più che devo fare c'è da dire allora dunque qua non c'è niente di nuovo qui c'è un po di puttanate tecnologiche ecco un'altra puttanata che ho notato è questa qua che mi si era buggato adesso non so per quale motivo vabbè però funziona mi si erano buggati i steel tank valve e praticamente me ne metteva uno per ogni slot anziché mettermeli in blocco non so bene per quale motivo ecco adesso non ho più spazio quindi dove devo inventarmi qualcosa vabbè prima o poi qualcosa me lo invento e abbiamo troppa roba anche di qua ne abbiamo troppa devo iniziare a mettere un po' a posto quindi mi sa che farò un periodo di astinenza da registrare per per mettermi a posto comunque la cosa importante che è successa oltre a uno spoiler che ho messo tipo millenni prima su sulla mia pagina di facebook e che è tipo là in alto vedete adesso non si vede aspettate vedete ho il king slime sull'isola di nel cielo quindi mi dovrò fare molto rapidamente un qualcosa per andarlo a picchiare selvaggiamente dunque qui in mezzo non mi ricordo dove adesso in quale corsia adesso la devo trovare abbiamo trovato i diamanti ma non li abbiamo trovati soltanto qua eccoli qua li abbiamo trovati anche molto più avanti allora qui di diamanti ne abbiamo trovati la bellezza di 5 mi sembra 2, 4, 1 e 5 che adesso faremo su molto volentieri infatti non ne ho ancora raccolti sono i primi diamanti che raccogono infatti mi ha dato l'achievement e purtroppo qui ci fermiamo qua abbiamo soltanto questi invece là più avanti mi sembra che ne abbiamo 6 adesso devo stare all'occhio perché c'è la lava qui in mezzo ai coglioni ho 5 diamanti addosso e non vorrei morire come un cratino invece molto in fondo molto 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 vabbè quando ho finito di correre poi vi faccio un fisico no vabbè sono qui a metà strada mi sembra si intravedono già sul fondo dello schermo ma molto sul fondo eccoli qua abbiamo i nostri diamantozzi ne abbiamo la bellezza di 5 se non mi ricordo male adesso continuo 1, si 2, 3, 4 e 5 ok dobbiamo essere a quota 11 se non mi sbaglio no 10 sono cratino perché ne ho contati prima troppi qui abbiamo del coso che non riusciamo a cosa e invece qui se non mi spawnano i mostri sotto al culo come si suol dire abbiamo una immensa grotta o rovina lì come cazzo ravine burrone chiamatelo un po' come cazzo a voi pare tutto da esplorare e vi ho tirato soltanto un occhio ho spento un po' di lava e ho chiuso un po' di fonti d'acqua non ho visto diamanti così diciamo al volo non mi laggara adesso che c'è la lava grazie non ho visto diamanti al volo da raccogliere così in superficie qui c'è dell'oro ma lo faccio poi su con calma un'altra volta no comunque di cose importanti in questo burrone diciamo che non ce ne sono di qui abbiamo sempre aspettate che devo evitare di cadere nella lava di qui abbiamo i lapis lazuli ma le faccio su un'altra volta di qui abbiamo del ferrous altri tipo silver e company ma di diamanti ufficialmente qui in sta zona non ne ho trovati devo ancora chiudere un po' di acquetta di qua perché altrimenti non riesco ad esplorare non riesco ad esplorare il nostro mondo il nostro burrone in modo calmo e pacato ma devo essere un po' sull'agitato andante perché con l'acqua che mi spinge contro la lava non è mai bello comunque prima di tutto andiamo a depositare i nostri diamantozzi a casa e così finalmente siamo un po' più tranquilli perché possiamo fare un pseudo query o qualcosa del genere adesso vediamo cosa offre la ditta allora qui c'è di nuovo la lava aspettate che... devo anche togliere la lava da qua sotto perché mi dà un fastidio adesso iniziamo a fare anche un po' di buildcraft così ci riempiamo un po' di tank di lava e cazzate varie sempre di steel perché il tank di steel tiene molto di più rispetto a un tank del cazzo il tank di steel adesso non mi ricordo quant'è 1.728.000 più o meno ed è esattamente uguale e identico a quello fuori ovvero in altezza siamo a quota 6 perché sono 4 e mezzo poi c'è uno di base sopra e uno di base sotto e poi che altro c'è? mi è fatto un bling il cellulare nel frattempo non so se si è sentito ma pazienza e abbiamo sempre ho notato che c'è di nuovo il king slime mi sembra come boss elencato qui stiamo sempre producendo in le nostre boccette d'olio e qui c'è una sfilza di materiali tra cui aggiungerò anche i diamanti che abbiamo recuperato durante la nostra permanenza nel sottosuolo ho messo qui insieme anche della glowstone ma non sono ancora andato nel nether la glowstone è praticamente vi ricordate quel piccolo mostracciatolino del cazzo a inizio serie che mi aveva attaccato mi aveva dato ecco ne ho trovati degli altri alcuni mi li ha dati la farm perché sono spawnati dentro la farm altri invece sono spawnati tipo in casa ma spawnano anche dove c'è la luce non capisco bene che tipo di mob sia perché si chiama tipo non riproducer cloner aspettate voglio dirvi giustamente come si chiamano si chiamano allora sp a w n eccoli qua si chiamano ehm vabbè ea replicator mh non ho un mob spawner di questi cosi inutili cosi inutili però ogni tanto mi ritrovo vicino a casa così da nulla e un paio di volte sono anche spawnati dentro il nostro grinder ozzo amichevole allora allora poi andiamo un attimo solo a dormire così abbiamo la giornata a disposizione dunque vediamo un po' il il quarry quarry dell'indas che si chiamano quattro più quattro otto più tre ok non ci bastano perché ne abbiamo soltanto dieci noi quindi opterei visto che non posso fare il quarry proverei col fare una turtle ah si perfetto, dobbiamo anche le turtle e le turtle direi di fare questa la meaning turtle, classica senza troppe pretese dunque la turtle normale si fa con stone glass panel e un cozzillo di redstone il glass panel ce l'ho la stone ne ho fin troppa mi manca il cozzillo di redstone che dovrebbe essere qua dentro poi devo unificare le varie casse perché altrimenti divento scemo quindi, no, qui ho ancora ecco, adesso con la glowstone devo fare quell'altro pezzo, giusto, giusto ottima osservazione cioè mi auto osservo comunque, allora, questo abbiamo un computer e per farlo diventare turtle, devo metterci una chest dell'iron, perfetto la chest con mia azione ce l'ho già mi manca l'iron che vado a prendere qua mi sembra fossero sette di iron se non mi sbaglio track 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 e cos'è che mi serviva? ho già il vuoto di memoria ah, la chest, giusto una turtle e poi con la nostra ho degli stecchini sì, ne ho due combinazione andiamo dall'altra parte e andiamo amichevolmente a prenderci tre diamanti andiamo sulla crafting table del qua e ci facciamo il nostro piccone di diamante piccone insieme alla turtle no, ho sbagliato di qua abbiamo la mining turtle oh bene e con questo le mie operazioni di scavaggio sono ufficialmente finite allora adesso devo fare una cosa ovvero controllare qui che c'è un botto di roba qua dentro tipo i leggings i i questi gli osmium cosa mi manca? ah, il cappello mi manca quindi prenderò questo prenderò anche la spada di lapislazzoli sì, mi piace attack più 6 attack più 8 no prenderò questa spada in steel poi la chest plate ce l'ho in steel invece qua abbiamo ah, ho un'altra di steel che è ottima e queste qua non le posso sommare per il momento quindi direi di fare questa più questa che ce ne dà una più figa poi mettiamoci il cappellino i pantaloncini li sommiamo a questi che sono ancora più fighi e gli altri così tutti assieme perfetto così dobbiamo avere più difesa vabbè, al massimo se ci morsicano le caviglie siamo protetti se invece ci morsicano in testa ce la prendiamo in culo comunque diciamo dunque per fare quei due pezzi là famosi che mi servivano intanto diamo una riordinata a sto coso per fare quei pezzi là che mi servivano era enderpearl glowstone e un'altra cosa mi serviva aspettate un attimo allora era della enderio o enderio creative capacitor posso farlo? no eh peccato allora capacitor bank ok ci servono questi double layer della ceppa dunque ci serve l'energetica ce ne servono quindi 8 servendocene 8 allora glowstone redstone e gold ingot noi ne abbiamo 9 per puro culo barra sfiga barra non mi ricordo per quale motivo ne abbiamo 9 allora qui ne abbiamo 8 di quest no ho detto 8 e di gold ne prendiamo 4 e lo facciamo macerare così al volo sag mill e via sì l'unica cosa dobbiamo attendere un attimo che tanto facciamo impostare il nostro alloy redstone di qua glowstone a destra non parti vero? ok perfetto ma non vorrei mai che con redstone e glowstone partisse un'altra un'altra ricetta che mi bruciavo quella poca glowstone che sono riuscito a com'è? ne ho già 4 ah sì giusto pensavo di sì sì no niente sono dicevo io allora vediamo un attimo non ce li raddoppi vero? sei così stronzo che non ce li raddoppi no ce ne hanno dati 8 8 8 chissà se funziona anche con la glowstone dust no non gli piace ma porca scusate vado un attimo a fare un cambio tattico di di gold con altra roba qui come si è messi perché ne ho 4 poi? non me ne servono di più? no un vuoto un vuoto di memoria vabbè adesso poi verifico i miei dubbi dunque qua ci buttiamo a cuocere questi qua che sono 8 ci prendiamo 8 di gold e corriamo dal nostro energetic sta ceppa di minchia no come si chiama? corri dai su potrei anche mangiare effettivamente ok attendiamo con ansia che cuoce il tutto nel frattempo ci mangiamo cioè ci mangiamo ci mangiamo se finisco la frase forse era meglio ah nel frattempo che lui cuoce vi faccio vedere che questo steel tank e con sopra l'xp drain funziona benissimo vedete è aumentato anche il contenuto del tank poi dunque là non c'è niente da fare ho sbagliato ho sbagliato scusa non lo faccio più scusa allora abbiamo un energetic alloy quanti è che ce ne sono 4 di questi giusto? 4 di questi io ne ho già 4 di là ah il pulverized pulverized coal ci serve ecco il pulverized coal forse ce ne sevano ancora 2 mi sembra di aver visto di là che ce ne mancavano un paio così finiamo il tutto ma l'ender pearl che cazzo l'ho posa a fare scusate c'era un qualcosa che dovevo fare con l'ender pearl però non mi ricordo più ne avevo posa 2 ho posa 2 l'ender pearl per fare cosa? era un crafting dell'ender forse ma no ah no era per fare il vibrant alloy o forse il pulsating iron che non mi ricordo più cosa mi servivano il pulsating iron cos'era per fare cosa? era per fare volevo fare forse no è impossibile che volessi fare questo no vabbè vado un'altra volta lo guardo qui come siamo messi male ne abbiamo soltanto 4 vabbè iniziamo a fare il crafting di questi 4 così non vi annoiate nell'attesa del della venuta del coso infatti mi sembrava 4 di core 4 di quelli ok qua ne abbiamo già 2 poi cosa ci serviva per fare questo? l'electrical steel è un blocco di redstone allora l'electrical steel l'electrical steel a me sembrava di averlo fatto l'electrical steel se non mi ricordo male eh allora silicon coal e iron il silicon si ottiene da dalla sabbia mi sembra sì ok quindi deve essere qui in zona no perché ne ho soltanto uno? mi sembra di avere di più vuol dire che mi sono dimenticato di farlo? no ma davvero? ho dimenticato ma porca ma veramente sono dimenticato di farle no che drastezza vabbè allora ce ne servivano di elettrical steel 4 beh io ne prendo 8 poi passo di qua ne prendo 4 e poi cazzo e poi il silicon il silicon il silicon il silicon lo vado a la gravel come si fa? c'è la gravel la sand c'è il il sagmile per caso sagmile perfetto molto molto bene quindi prenderò della cobblestone a random eh che verrà tradotta in gravel perfetto qui che cazzo devo fare d'altro niente devo impostare tutti sti cazzo di crafting che mi ero completamente dimenticato non so bene però no di nuovo ho cliccato con la orange cazzo allora qui ci buttiamo dentro prima iotto iotto di coal erano da freggere sì prima iotto di coal poi di qua nel frattempo recuperiamo questi che li prendiamo a mettere poi di là qui ci mettiamo l'iron il silicon ok perfetto la ricetta non parte quindi va bene ci prendiamo anche due di coal eccolo qua una è andata ma a me sembrava di averlo l'elettrica steel dove cazzo l'ho messo oh questa è una testa di spider interessante molto interessante mettiamola qua ciao testa di ragno come stai tutto a posto allora finiamo un attimo scusate finiamo un attimo solo qua il coal company ok uno di elettrica steel ma io sono convinto di averlo già fatto st'elettrica steel naturalmente non lo trovo più l'avrò perso magari che non ho fatto la cazzata di buttarlo fuori come ho fatto prima con l'altro pezzo allora il coal ce l'abbiamo fatta e adesso ci manca macerare tutta questa gravel io mi ricordo assolutamente di aver fatto questo cazzo di elettrica steel non è che l'ho messo tipo da qualche parte no eh allora qui elettrica steel non ne vedo qui non c'è perché non è una cassa di tecnologia sono un coionazzo ce l'avevo qua davanti al naso non me ne sono accorto pazienza allora dicevamo possiamo fare il crafting allora prendiamo nove di questi qua di redstone li buttiamo per fare un bel cubozzo di redstone lo mettiamo al centro ci mettiamo i quattro cazzigli ai lati i quattro cazzigli di nuovo qua ai lati e abbiamo il capacitor bank da 5 milioni di redstone flux e una volta fatto questo ma porca di quella ecco dicevamo una volta fatto questo lo andiamo a sostituire exact amount stavo pensando di metterlo tipo eh no devo metterlo in un punto dove passa solo corrente perché questo capacitor della ceppa di minchia fa passare la corrente e basta non dà cose aggiuntive non fa passare gli oggetti quindi stavo pensando di scollegare quello lì in alto che in tante notte non sta producendo niente e collegarci tipo questo ecco quindi qui adesso lo metteremo come solo come extract e sopra non ci perché sta no scusate perché sta accumulando anche di notte sta bestia ma vuol dire che volete dire che ho un pannello solare così figo che mi produce corrente anche di notte ah no sta scendendo era la corrente accumulata durante il giorno perfetto comunque noi adesso abbiamo una piccolissima riserva di 5 milioni di redstone flux per tic no di si no scusate sono 5 milioni di redstone flux in generale e volendo ma i nostri cavi non lo sopportano perché i nostri cavi supportano soltanto 640 ci può fornire la bellezza di 5000 RF su tic perfetto quindi dopo aver concluso amichevolmente questo accumulo di corrente e aver fatto una simpatica turtle che metteremo in funzione penso nei prossimi episodi se non mi viene in mente altro da fare ci possiamo salutare e ci vediamo nella prossima puntata quindi ciao a tutti e alla prossima grazie